ah ma ero pure mutato cioè incredibile se l'ho fatto partire una live che peggio non potevo far partire buonasera buonasera grazie a Tintoretto dei poveri per i 26 mesi e buonasera scusatemi sono qui da solo quindi se volete abbonarvi fare tutte le vostre cose fatelo adesso perché quando arrivo a Moro non vi cago più non è vero però ci sarà un livello di interesse leggermente inferiore per un atto mi è sembrato di avere un biglietto sporco di sangue con un messaggio anonimo di morte e invece era la cosa della palestra solo che era così guardate sembra sembra sporco di sangue con lo scritto morirai se non mi dei le 5000 lire che mi dovevi invece se tu guardi è il coso della palestra eccolo qua però stavo facendo ordine e ho visto questa cosa qui e mi sono un po' inquietato sembrava sembrava proprio pregno di sangue qui vedi vedi guarda guarda qui sembra sembra eh sembra se gli sparro dalla spiaggia lo faccio adesso va là così si dice dalle sue parti tempo com'è un freddo canaglia io mi sono rotto i coglioni non è possibile siamo al 6 di aprile e non è possibile che la mattina faccia così freddo porca palla eh è ora di fare basta però se accendo il riscaldamento fa troppo caldo capisci sto vivendo un dramma Andrew grazie per i 19 mesi ah comunque ho fatto l'acquisto della vita ormai sono diventato un fan della pulizia della casa vi farò vedere prossimamente non adesso vi farò vedere ho preso il robot della Roborock cos'è ah la mia signora è stata contattata dalla nutrizionista io domani parlo col mio nutrizionista quindi si metterà a piangere sono soddisfatissimo del robot Roborock aspira poi c'ha il panno per pulire con il detergente poi si pulisce da solo il panno e quella è una roba di cui sono soddisfatissimo già che c'ero visto che la nostra 100 gradi col filo era una rottura di cazzo da usare soprattutto per le scale e per il piano di sopra sempre il Roborock sono andato di aspirapolvere cleaner quindi è un aspirapolvere tipo folletto però wireless e sotto ha dei rulli che puliscono che puliscono vi posso far vedere l'immagine eccolo qua che puliscono il pavimento eccolo qui è questa cosa qua guardate che bello facile facile grazie Francesco per il ride guardalo qua eccolo qui guardate che bello che poi è lì eccolo lì e c'ha sotto i rulli per pulire per terra e mentre aspira quindi passa l'acqua e pulisce in più quando lo metti nella base pulisce i rulli e li riscalda e li asciuga li asciuga aspira e lava contemporaneamente e aspira allora non è costato poco perché non è costato poco ma questa tecnologia wireless costa 400 euro cioè ditemi voi se vi potevate immaginare che una roba del genere costasse solo 400 euro il futuro della pulizia vediamo se trovo il link si chiamava sto cazzo si chiamava aspettate non mi ricordo più il nome eccolo qua è aumentato di prezzo perfetto è aumentato di prezzo viene 479 io l'ho pagato meno poi non so se sia questo il link perché l'avevo preso magari magari tenetevelo d'occhio io ve lo linko intanto tenetevelo d'occhio e quattro volte il prezzo di una scopa elettrica media ci stanno in rapporto al Dyson perché quelli sono fuori di testa esatto allora volevo proprio arrivare qui non è versatile come un Dyson non è versatile come un Dyson mi trovo molto bene col Dyson infatti non l'ho buttato via il mio vecchio Dyson per carità perché comunque il Dyson lo puoi usare come vuoi però questo qui aspira e lava lava e poi si autolava le rotelle attenzione autolava le rotelle e le asciuga in modo che non rimanga l'umidiccio guardate che è veramente se avete casa vi assicuro che l'ho usato mi sono trovato molto bene è molto maneggevole la batteria dicono che dura i 45 minuti io comunque ci sono riuscito a pulire il piano di sopra metà piano di sopra ho fatto e ho consumato circa un 30% quindi direi che insomma a meno che non abbiate la reggia di caserta che andate lì con sto cazzillo per pulirlo ok però sono veramente soddisfatto tra l'altro c'ha i rulli che rullano e pulisco aspetta che mi sta chiamando Moro e che ti aiutano anche perché ti tolgono anche un po' di resistenza non sono male buonasera raddrizzami lo ceddu buonasera ma che dici sto pazzo scusa stavo facendo un termoracolo non ti stavo offendendo l'uccello confermo anche quello che dicono il prezzo del Dyson non è non è ingiustificato il Dyson ha assolutamente una cifra giustificata come prezzo è alto perché tu lavori in fabbrica sai tutti prezzi di produzione tutto quanto però rispetto ad altro che ho utilizzato il Dyson comunque mi ha dato sempre una quindi per questo tu ti ritieni di essere uno che ne sa di prezzi no di aspirapolveri il folletto come lo vedi il folletto andava benissimo prima però non si è aggiornato abbastanza infatti lo usa mia nonna però non è non è ottimo invece il il secchio quello per aspirare la cenere dalla mia stufa pelle scusami è il bidone quello il bidone il bidone ma sai che quello lì non si trova neanche su Amazon che lo dovevo comprare non mi ricordo non l'ho preso lì hai preso lì tu non mi ricordo mi ricordo che mi serviva per quando ho fatto lavoro in casa e quella roba lì non lo trovo nel suo appare no forse no forse non l'ho trovato al brico sai no non volevo vabbè 34 euro 34 euro è un cazzo però comunque il Dyson per la versatilità che c'ha è veramente straordinario non ci sono aspirapolvere uguali è buono comunque stavo dicendo che cazzo ci fai ti succhi il cazzo non perché ho detto la cenere no allora ok no allora se avete un Dyson non aspirateci roba tipo farina c'è scritto c'è scritto o mattone liquidi e e polveri troppo sottili polveri sottili esatto solo che è un po' una cazzata è perché tu compri l'aspirapolvere per quello ma infatti te lo dico anche a te che magari ti interessa perché anche tu sei un uomo di casa dopo il robot della Roborock ho acquistato il Roborock Dyad Pro che è senza fili ma lui fa c'ha i rulli che ci mette un po' di detergente lui i rulli che pulisce per terra e aspira quindi un aspirapolvere che pulisce per terra io non sporco proprio per terra neanch'io però ti assicuro che l'acqua era nera giuro guarda il mio pavimento ci mangerei per terra ma non te lo faccio vedere adesso lo faccio un'altra volta me lo porto me lo porto e facciamo la prova guarda mi faccio la tratta due ore di macchina tre ore di macchina e vengo a vedere se tra l'altro proprio qui dove sono qui con la sedia ci devi dare proprio con l'acido muriatico per terra perché con la sedia passando avanti e indietro avanti e indietro un po' la polvere un po' la sporcizza così si proprio pressa sul pavimento non va mai via mamma mia quindi è un casino ve lo farò un video guardate che sono soddisfattissimo poi l'acqua che butti via tu dici vabbè il pavimento non è così sporco l'ho preso ho pulito era merda c'era merda c'era un po' di caccarella ma lo fanno tutta la merda il pavimento era pulitissimo però sono veramente soddisfatto fai come la litizzetta poi arrivi lì con l'aspirapolvere con il laser verde e dici merda e ti disperi un casino no ma è peggio perché vedi proprio il Dyson aspira e vedi con il laser però tira su la polvere questo qui pulisce anche e proprio poi hai il serbatoio pieno d'acqua che è nera e dici ma poi che succede il laser lì è veramente una una tuttanata però comunque ti metterà ansietta il laser appunto per quello tanto comunque non è che sì per carità infatti serve solo per oh mio dio ce l'ha o lo usi come videogame diventa power wash e vedi proprio dove pulisci fai le righe io lo faccio però però il Dyson adesso da quando ho il robottino lo sto usando solamente se non da pavimento adesso che ho preso questo pulisci pavimento lo userò proprio solo per pulire le cose cioè lo uso in portable il Dyson è comodo l'attrezzo quello tipo per i materassi quello ciuccia veramente bene fa un bel lavoro fa proprio il sottovuoto e gira anche da un bel sì 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 e poi quelle dure sì 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 grazie Serino per il ride buonasera buonasera un salutone grazie anche a giochi di spade per i 42 mesi visto che prima ho esordito con cazzo che freddo sono 5 gradi che adesso ne sono 10 a quanto pare sempre guardando l'angolino del meteo ma prima 5 minuti fa erano 5 gradi quindi che storia si è scaldata la svelta mi lamentavo perché ho trapiantato i peperoncini sabato scorso sì ho preso le piantine nuove il giorno dopo da 20 gradi che erano ne erano 6 e ho detto cazzo certo ma infatti mi stavo lamentando della stessa cosa prima di parlare del mio nuovo ospire a polvere che si pulisce da solo stavo lamentando la stessa cosa perché la mattina esco con Sif ci sono due gradi e vado fuori con la maglietta manica lunga rossa ma rossa che non è una cosa che tu potresti mettere in pubblico neanche uno dei concerti punk perché io guarda che la vi giro con la maglietta rosa shocking da giovane ma quella è più in la mia è proprio rossa con scritto con problem solved molto sessista tra l'altro perché c'era prima l'uomo che parlava con la donna cioè gli parlava la donna e dopo c'era l'uomo con le cuffie con la donna che gli parlava ma lui non sentiva hai presente il rosso della Vincentorix quello dei coltellini svizzeri sì ecco una maglietta così a manica lunga col collo alto vabbè ma quello della Victorinox è rosso non è accessissimo però è rosso bello pieno è un po' troppo rosso cioè non è quel bordeaux che dici ok è proprio un rosso rosso Natale vabbè sì quello la felpa la felpa rosa è il più mire ma è diversa è più tenue più carina la felpa rosa è tenue però quello è bella eh infatti questo rosso qua è proprio una roba che non so neanche perché l'ho comprato ne ho due uno rosso e uno bianco panna crema ma un altro ride Serino cosa sta succedendo grazie ancora grande anche all'altro Serino vai e torna sì ha funzionato ha funzionato dica scusa no stavo guardando come mutare e smutare discord perché è comodissimo per discord non ci avevo mai pensato che effettivamente potesse esistere una cosa del genere perché il tasto io mi sono il tasto rapido e anche io dalla tastiera anche io ma ogni tanto non so no neanche a me quello della stream che però è più comodo perché ha proprio è una roba sua integrata e ti viene fuori anche il simbolino col microfono barrato e infatti mentre sto parlando faccio così e non mi stai sentendo adesso invece mi stai sentendo vedi grande e se io continuo a parlare invece non mi sente più invece se continuo hai capito adesso lo cerco mi sfanculerà tutto non lo faccio per davvero no 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 non dovrebbe discord io ho una spissa qua dietro la schiena guarda ma senti sto veneto che cazzo vuoi non ho capito una spissa ti senti quando parli da quant'è che non facevamo una live assieme tra l'altro vorrei anche mettere horror soprattutto dalla tua 24 ore credo eh ma mi sa anche dalla mia 24 ore punto no non credo e cazzo ho fatto una qualche mesetto fa non mi ricordo ma sono abbastanza sicuro di aver fatto qualcosa insieme io e te no solo io e te no mi sa eravamo con gli altri ah ok io e te dicevo io e te ma anche con gli altri cosa cazzo abbiamo fatto con gli altri eh non mi ricordo però mi ricordo ah no abbiamo fatto è vero abbiamo fatto quello collino la del dello sparacchio si abbiamo fatto ready or ready or fuck off bitch fammi vedere se funziona mother fucker in the asshole aspetta che devo dare i permessi eh sì è importante dai gli permessi va che roba la tecnologia hai visto hai visto hai visto di cercare questa magia hai visto questo affare che serve qualcosa effettivamente se facevo più live a sim l'avresti scoperto prima perché ce l'ho da quasi un anno ormai questa feature qui è proprio una cazzata cioè perché non pensarsi prima è perché proprio lo stesso io infatti ho il muto nel meno del tasterino numerico però era scomodo ogni volta premere e ripremere soprattutto perché non esce il suonino mentre uno è in live eh sì ma poi soprattutto perché purtroppo Discord è una merda e delle volte tipo se tu hai selezionato non ti prende il tasto non ti funziona il tastino sì ma non so se Discord mi ricordi il problema lì mi sa che è proprio Windows no no perché non sia Discord perché con TS non lo fa con TS non lo fa allora ma comunque è neri nel 35 a causa di un lavoro riesco a proseguirla grazie mille dovrò parlare soffermarci dire robe anche completamente così del più e del meno fa sempre piacere sì sì un peccato che questa domenica non ci sarà la mocca perché abbiamo anche roba di cui parlare e tra cui questo gioco qui e quindi niente io ho scaricato un botto di giochi in questi giorni dimmene uno ieri due ne ho presi ho scaricato Wall World e Terra aspetta quello fatto tutto di Hull World no è Wall nel senso muro di mondo io pensavo io pensavo a Hull come lana non come lana no non so se hai giocato Dome Keeper come si scrive Dome Keeper è un giochino del cacchio dove tu sei un minatore che deve andare giù nella miniera minare prendere i materialini e poi torni su e ogni tot ci sono le ondate di nemici da sopra è molto carino un pochino è neanche troppo riuscito come roguelike infatti ti fai la run vinci quella run lo chiudi per sempre sì Wall World è la stessa roba solo che c'è un pochino più di cosa solo che mi sono anche un pochino rotto i coglioni già anche ieri quindi perfetto però costa 4 euro come l'idea come il gioco che giochiamo stasera quindi va bene che costa 4 anche questo costa 3,99 effettivamente lo apro che dici lo apro anch'io mi hai messo curiosità di questo paranoia place no poi mi sono comprato oggi invece strange orticulture che non l'avevo ancora provato Raven's Watch che è uscito un'ora fa è un sempre un roguelike guarda dal nome si sentiva tantissimo che fosse un roguelike è perché dagli stessi tra l'altro di Course of the Dead Gods scusa ma il mouse è un altro roguelike e poi ho ripreso che ce l'avevo già su Epic ma l'ho preso su Steam per la Steam Deck volendo ho preso Darkwood ah Darkwood io lo voglio fare in live quello lì non ho avuto perché l'ho avviato su Steam Deck ho detto cazzo che bello e e come al solito non ho mai avuto occasione di giocarlo in live quindi mi ho buttato via i soldi perché non lo giocherò mai da solo e non lo giocherò mai in live probabile infatti anche io non l'ho mai fatto in live ancora dovevo fare nel Moro by Night all'inizio e sarebbe per favore che l'ho avviato ed è molto bello mesi e mesi fa ma scusa ma tu l'hai giocato a quello della ragna? no domani sera non lo voglio giocare fai quello ma smettila ragazzi dei termosifoni a 200 sub in più stasera Moro domani sera vi fa il gioco della ragna tranquillo 100% l'obiettivo ve lo dico io no l'obiettivo adesso è 1500 punti gli altri tornano dal Giappone ah se no non tornano bellissimo altrimenti non possono tornare incredibile però immagina adesso lo devi fare no no adesso per favore potete non subarvi per un paio di settimane così per vedere che succede poi dopo fatelo hanno l'aereo domani ma si inculano se si stanno fermi si no a parte che devo fare adesso ora devo uscire i primi di maggio un horror con gli alieni proprio con i grigi però ok con l'ufo si bello cazzo perché non li fanno i giochi con gli alieni veri è perché fanno tutti gli alieni mostri ma che schifo è perché a parte che ci sono i preset di unity che funzionano da dio cioè da dio che prendono quelli lì riciclano fino alla fine dei tempi e vanno avanti così quindi non vedo perché spendere soldi per fare una roba banale come il grigio eh perché no perché fare i giochi belli fanno gagare allora dove sei che ti voglio invitare maledizione già mi hai fatto arrabbiare stasera non ci sei come si faccio cazzo ne so gatto da Steam ah create eccolo qua creo io no ho già creato hai creato tu e allora refresh non ci sei guarda vediamo un po' da Steam e Shift Hub non mi funziona ma non mi funzionava neanche ieri ma è possibile fa la tua e rompi i coglioni no mi unisco mi unisco da Steam però non mi funziona Shift Hub semplicemente il cinese chiede ma che gli eser riusciranno a tornare senza i 1500 sub vediamo c'era il buco ma si è ristretto eh no mi sa che non tornano ragazzi eh non funziona scusami eh l'ho fatto ma a te funziona lo Shift Hub o è un problema solo mio a me funziona eh allora è un problema mio che ti devo dire allora scusami Moro forse perché sono invisibile on the line Moro unisciti alla partita eh non fa un cazzo che ti devo dire non fa un cazzo aspetta che chiudo eh da gioco chiuso Moro unisciti alla partita fammi vedere si sta avviando il gioco praticamente risolto aspetta ma non mi funziona lo Shift Hub ma non funziona proprio perché ma cazzo ma che cazzo di problemi è prova dalla Steam se c'è il è proprio ragazzi è possibile che si sia disattivato in un qualche modo Shift Hub potrebbe essere guarda eh ma scusa tab e accettalo da tab lo sto facendo però che dottore di coglioni scusami c'è una funzione che vuoi usare capito eh comunque ho accettato di giocare sto cazzo Moro ma veramente sto cazzo non funziona niente falla tu falla non ci sei la faccio io la creo io guarda qua asilo coming soon eh quindi dove lo facciamo scusami ah vabbè eh eccola qua no coming soon credo della scelta del capitolo vai unisciti ah refresh effettivamente non ci sei invite non funziona non funziona anche l'invite eh unisciti alla partita eh la vedo male lo shift non mi va più scusate non mi sta unendo effettivamente sto notando che non sto notando questo problema eh interfaccia libreria download cloud musica no musica direi no saranno saranno delle discussioni no e vediamo stavo controllando dello shift hub io c'è qualcuno che chiede come fare una cilma perché lo vuole platinare quanto pare non funziona un multi non funziona un cazzo è qualcuno Antonello Golfini si sono io perché ti hanno trovato non lo so mi ha chiesto è qualcuno Antonello Golfini non ho idea prova a cambiare il nome della lobby la chiamo già fatto c'è l'ho cambiata tra l'altro hai visto che se cancelli aspetta ti faccio vedere giusto così per un contenuto di miglior qualità se cancello il nome ricompare si anche a me anche a me hai lasciato quello va bene allora la chiamo Pino se non la faccio privata per 4 mesi provo a vedere così vediamo così e l'ho trovata a posto risolta tanto è da 2 non è che può entrare qualcuno infatti però mi è piaciuta questa fatica benissimo benissimo bene vabbè partiamo quindi prego vai chissà di cosa a me comunque non funziona lo shift hub ma è già da un paio di giorni quindi sta cosa mi dà molto fastidio problematica effettivamente mi girano i coglioni che che piscia qua sei tu sei tu sei tu oh signore ma il mouse è defilippico siamo in un manicomio perché ti stai pisciando addosso che cazzo dici aspetta fammi ti stai chiaramente pisciando addosso ti vedo eh adesso ti sei fermato ma a parte che ok dimmi ma non è vero non prendo i piedi io se ti guardi in basso non c'hai le gambe ok troppo buio non vedo niente io ragazzi posso aumentare la luminosità che fastidio che c'è la barra dell'iPhone sotto c'è una luce qua guarda ecco qua ecco la luminosità oh grazie dove l'hai presa per terra era lì per terra ah eccola tasto destro si accende ammazza ma sembra bellino qua fammi vedere eh guarda guarda che roba che roba che è pieno di è pieno di budelli no non è vero sì più ossa ci sono anche le ossa però le ossa sono sdoganate le budella no ho aperto chiudo scusami ci stai tutto c'è la testolina che viene fuori se ti muovi però sì sì però scusami perché aprire una porta quando di là c'è aperto scusami andremo a guardare il tuo ragionamento ti dirò non mi dispiace c'è anche un armadietto the noise will get attention hai capito? gatto sai cosa vuol dire questo armadietto? no il monstro pisello ci stiamo in due ma co-op no beh e ce n'è solo uno ma ti hanno tagliato la gola a te mi dispiace un casino ma che cazzo dici? no tu sei solo sporco qua nel bavaglino e hai anche un occhio pesto anche tu eh no quello ce l'hai aspetta questo come ha fatto? ah vedi dove c'è il terreno qua fa sniacchete capito? cazzo bella e le ossa? e le ossa sniaccherano c'è un foglietto qui aspetta leggimi la lore I got no choice I have to run away today today? in genere non ho scelta oggi devo scappare oggi sono dovuto scappare ah vabbè mi ha chiuso dentro in isolamento ed è finita they will definitely take away all my notes and without them I don't be able to remember anything no ah si dimentica le cose quindi è uno dimenticare ah guarda che c'è uno appeso ho fatto bene a rinchiuderlo eh si vedi che c'è tutto questo magari è pazzo mi sono appiccimenti uno che si scorda le cose mi succede spesso è che io non me le scrivo siamo a pazzia gatto di curare qua c'è un giardino zen con gli alberi bellissimo si eh lo chissà come sono cresciuti sei pazzo gatto eh si si chiudeva la chiave non potevo riuscire allora qui c'è un bottone poi c'è il triangolo l'occhio leggi ah dammi tre parole sole cuore amore dimmi un po' ma è l'occhio don't tempt the fate non tentare il fato if you enter to the wrong ah se metti la combinazione sbagliata le conseguenze saranno inevitabili ma che vuol dire in che senso posso premere ah posso premere posso switchare i televisori si può switchare la tv serve il telecomando ah esatto azzoga poi ci sono delle mani e un bottone che non premere sarà da premere dopo perché altrimenti arriva il mostro pisello sicuro l'hai sentito io lo sento già il mostro pisello l'ho sentito ma è basso molto basso eh sarà distante non vuole disturbare tra l'altro l'altra volta che abbiamo giocato abbiamo giocato un gioco col mostro pisello in co-op e non è che ne esistano tanti è incredibile vedi tutti noi li becchiamo quindi eh ah qua c'è del particello perché mi fai questo gatto no ma c'è Michele scappa e scusa io ah ma lui sarà sua noi siamo pazzi lui è il guardiano della mi sembrava più pazzo lui no mi ha perso io la richiudo non la chiudo ma che cazzo scusa ma ti ha ucciso le orecchie che cosa ha fatto è urlato nelle orecchie poi mi ha messo due dita anche ti posso salvare posso cliccare per urlare gatto aspetta è in buono che sono qua arrivo 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 è qua è qua ma te sei una testa di cazzo ah ma sei distantissimo sei ma proprio di Roma urla ancora ok arrivo arrivo ok continua continua oh gatto però partiamo malissimo eh però almeno ti trovo perché visto che tu urli io vedo attraverso i muri quando urli perché io sono Daredevil ok ti ho trovato non sta a urlare più ti ho trovato a posto nooo ero ti coglioni ti ho detto che ti ho trovato ma sei pure qua deficiente ma che sei scemo ma non sei dentro un cazzo non sei scemo eri qui in girocchiato eri ma non è vero eri nella testa ce l'avevi la gabbia scemo ero scusa eri qua per terra facendo così aaaah così eri ma io ero dentro una gabbia mentale gatto vaffanculo è una paranoia capisci guarda che i limiti sono nella tua testa il mio posto di paranoia ma poi che cazzo ho cercato di lavare qui scusami era molto sporco eh ho capito era il mio pavimento allora torniamo a noi orca troia ma allora ho premuto i vetri ma come premuti con i miei eh cammina nei piedi qui cammina nei vetri non li cammino nei vetri sono scalzo eh cosa so bruce willis un sacco di libri un'altra foto aspetta stai tranquillo stai però ho messo giù quella che avevo prima vabbè vuoi fare la collezione la raccolta delle foto ne posso tenere solo una eh vabbè l'altra l'ho presa io chi è che no no che paura no ma è qui ma mi riguarda a me vai da qui no vedeva a me ma mortacci tua vuole far notare che è la prima volta che non muoio per primo due volte di fila ma non è allora quali erano no l'altra volta era con lino abbiamo fatto un gioco in un labirinto io lì ne fra e prendeva solo a me ci eravamo tutti e tre girava e veniva a prendere a me sempre maledizione far morire questo urlo guarda 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 mia gabbia mentale oh cazzo non so mica se ti riesco a peccare ma se io guardo in alto vedo la tua spectate più o meno molto scura ah ok ok ti ho trovato ti ho trovato vai tranquillo che paura che questo signore è il mostro con l'occhio laser eh hai rotto i coglioni di urlare sono qui guarda fammi vedere l'occhio col mostro laser let me out of here dice come non posso signore eh ma non posso ma mi perdoni ma come faccio lei capisce che che cazzo ma no gatto non mi prendi per il culo cazzo dillo dillo che tu mi stai prendendo per il culo eh ma dove cazzo è finito adesso ma ho capito ma devo stare un secondo ma che due coglioni ma smetti di morire come un deficiente no eh let me out vai in culo che c'ho quell'altro deficiente da raccattare che poi ah ma visto ah ho pesato la merda ma ho pesato la merda cazzo sei la merda lenta mi incula mi ha preso forse poi più e lo vedono e lo ha preso che paura che mi ha fatto questo male sì ma che audio è devo abbassarlo mi sta strappando il cervello hai finito di urlare ah guarda eh ti ha imburrato eh anche a te è quello che ha messo nella lavatrice è quello eh il mouse bello però non puoi scappare non puoi non puoi aspetta che abbassa un po' l'audio eh ci mancherebbe l'audio per favore che è stato pericoloso abbasserei eh gli effetti sarà lui che urla chat per voi com'è l'audio ottimo perfetto eh l'ambiente non era sbagliato è lui che che urlava però mi ha dato un po' di fastidio ah si può mettere inglese o non so credo mi pare no non è è ucraino è ucraino credo eh show hints sì disegno no 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 a bella a bella a bella me lo ok oh fai mi unisco eccomi qua era ucraino era ucraino che cazzo di paura stasera eh mai neanche una volta gatto di che cosa di paura quando hai avuto paura eh mi ha fatto un po' mi ha fatto jump scherino mi sono preso un po' di paura più che altro perché ho urlato nelle orecchie non è che ah si può fare anche questa valentino rossi volendo eh scusami ma sì quindi lui perché ci ha trovato che cazzo che domanda è perché ci ha visto eh ma allora tutti i trick e track qui per terra non ho capito sai dico tutti i trick e track qui per terra che fanno i rumori perché non ho fatto un casino guarda qui c'è un altro ma non c'era prima ma perché lui guarda vedi c'ha il laser negli occhi ma no ma non credo sai guarda no 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 vedi vedi ecco adesso t'ha visto t'arriva il mostro no dici let me out vedi non è arrivato sì ma ti appunta adesso no semplicemente fa bordello eh ma non è eh sì che forse adesso ho abbassato troppo i rumori aspetta che mi metto qui dentro e li rialzo un pechino un pechino sì allora non proseguo ancora eh bisogna anche craucciare un attimo sono da te eccoci qua quindi andiamo nella stanza dei boiler dobbiamo trovare tre indizi e il telecomando cazzo è una batteria gigante qua ho sentito muoversi eh una batteria gigante sì sembra un processore nucleare gito drop item ma non ho non c'ho niente cazzo drop è la luce no oh il triangolo ho trovato il triangolo oh 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 triangolo 8 triangolo 8 segnatevi ciate triangolo 8 qualunque cosa voglia dire triangolo 8 triangolo 8 è cerchiato poi eh qui c'è uno morto che cazzo è cerchiato è cerchiato che non mi ha fatto no l'8 dico cerchiato nel senso per dire importante l'8 ma non è cerchiato che dici vedi c'è un piccolo cerchio no non è un cerchio è appiccicato sopra è un post-it è un post-it qui dove mettono le persone morte ma d'altezza palle però scusa ha le ginocchia dove che mal di schiena i modelli dei morti eh avranno fatto il calco da un morto vero è che quando c'è i soldi si può fare di tutto dici che è un tripla questo no oh ho trovato una pila no come ho trovato una pila magari gli era morto uno zio e prima di seppellirlo hanno fatto il calco ma la pila la pila non servirà le tronchesi sono resident evil 2 gatto eh prendi la pila tu dai ma la pila a che serve spero non per la torcia perché mi sparano i coglioni eh non credo anche perché possiamo portare un oggetto per volta eh appunto infatti ma i tronchesi abbiamo trovato qualcosa da troncare sì ma l'audio a me è sparito adesso che l'ho abbassato di un pochino sì ci si è leggermente i piedini che fanno pat pat nel pavimento scalzi ma nulla di che sento manco quelli qua c'è un signore allora triangolo 8 oh guarda qua c'è una valvolina manca manca la valvolina manca ok ci serve una valvolina allora c'è sempre un tubo che perde qua c'è un foglio se ti vuoi destreggiare ho trovato una foto ma non so cosa serva la foto perché mi occupa uno spazio ho fatto bordello scusami è finita cazza miseria eh let me out ma che cazzo sei sono qui nella stanza dove c'è la valvola wrong side guarda che c'è Giampiero giorgio arrivo nel baule mi chiudo dentro no no oh streghetta sta toccando ah è lui che caga per terra ma ci sono io che cazzo ci sono io veste di cazzo dove fai me l'apri davanti a lui però è andato via non c'è una bussa prima no vediamo posso vedere te come mi fai a vedere me guarda in alto che bella la telecamera mentale c'è la merda lì a terra attento bella questa trappola mentale mi ha sentito gatto no te sei uno stronzo ti ho toccato mi tocca mi tocca ah sto tornando oh gatto ho premuto un pulsante terreno come si chiama ho premuto i vetri con i piedi posso uscire no è qui davanti adesso aspetti oh no si sta oh no moro oh no sta sta mettendo la merda per terra che poi caga dalle mani lui non so perché è perché le mani sporche ma dici quindi se se hai pulito il culo con la mano e presto tardi va bene no chazzo non ce l'ho un emoto per la O che poi è strano perché dice a O non dice a O si ma scherzo per 56 mesi a sai perché dice help dice certo help no no dice a O si dice help dice help no non credeteli ragazzi dice a O oppure ciao ciao dice può essere può essere tutto è un gioco come un altro allora dov'è che sei qua sei proprio qua ma qua dove ah dietro questo occhio ai vetri ho svegliato non sta a urlare ti ho trovato sono per i coglioni ti sono pure vicino allora triangolo è otto triangolo gli oggetti mi rimangono ho trovato un'altra foto però io ho switchato la foto dalla batteria cioè che serve mi lampeggia la torcia no veramente e non usarla allora eh non la uso metti la gamma al massimo e hai risolto ma perché sono stato io cazzo tanto viene da me lo so chi mi incula a me tra tutti chi deve inculare a me a me a me eh vabbè io passerò il tempo a sentire Moro che mi dice aaaaaa ma porca di una puttana eccolo là eccolo là non è possibile eh va così stasera stasera va così ma anche l'altra sera con lino ma non è possibile vabbò allora non è che si continuerà a chiamare tipo cattivo nono è perché abbiamo fatto abbiamo premuto cioè perché quando dire premuto abbiamo calpestato i vetri quelle robe lì se fai un minimo rumore lui arriva subito eh chiamalo ok dov'è che sei urlami eh ma è impossibile no no è possibile è possibile vieni qua eh adesso sto andando a dire tutto gucciato al buio oh no qua devo calpestare è vicino eh ma io devo andare dove è lui Moro stai zitto te è tornato all'inizio eh sì è sento la merda devo salire le scale devo cazzo perché continui a morire la terza volta vai piano di sopra allora abbiamo premuto il tasto a luce arriva subito dai buono che non lo sento che adesso l'ho abbassato troppo anche se al 70% lo sento poco e col tasto indice urlo sì e col tasto a luce premo per terra le cose c'è la merda dentro la merda ma quanto in là sei andato che non è che ho deciso buono che mi ha rugito stia zitto lei trova un pertugio oh no di qua non posso mica andare che mani sono queste non controllare le manichine ma è il The Ring solo che c'è un botto di vita eh sì è il prequels o il sequel perché magari sono cresciute te la può darsi sì oh no gli occhi zitto no no non figura sì no no oh no poi io vedo questa scurezza sta camminando ma è qui è andato occhio eh sì ma se non mi urli nelle orecchie un attimo eh ma sono impaziente lo sai a parte dove cazzo mi ha messo veramente ecco qui se eviti di murire sette volte magari ti trovo un po' facile la prossima volta ti ha campestato i vetri poi è inculato a me e intanto dove sei qua ma porca troia come ci arrivo là che cazzo no le urla non le sente che è sta merda è una vagina che schifo gatto sono qui sono qui sono qui sono qui eccolo là è qua zitto zitto e fermo zitto e fermo zitto e fermo non ti muo guarda moro ti picchio eh e te sei uno stronzo ti sei mosso ti sei mosso cosa vuol dire ti sei mosso zitto e fermo dovevi stare zitto e fermo ma guarda te sto stronzo eh chi è che sei guarda dov'è adesso oh oh non si amazza più per se cazzo mi ha fatto un errore eh direi allora devo cos'è questa un la tv controller un telecomando lo prendo è al posto della batteria vabbè che fa stima perché ho due mani effettivamente non abbiamo tasche in questo camice probabilmente guarda che come è una torcia non è fino nel culo che poi ho due mani lo stesso no appunto una per la torcia è una per un oggetto ah giusto è come si of thieves è molto coerente si è come si of thieves no si of thieves però c'è le banane le robe tutte nel culo si però le cose preziose una ah il pisciatoio guarda che bello si ma non serve sei qui sotto devo fare le scale mi ci vuole il mio tempo stai tranquillo si è buono eh mi alita mi alita cos'è sto por- e allora te sei proprio uno strozzo dammi un secondo sei tornato all'inizio di nuovo è l'unica cosa che posso fare fammela fare fallo ok arrivo se c'è ancora quel pezzo di merda dove cazzo sei? ma non è dove cazzo sei? ma dove cazzo è? ma come? faccio la partita eh? aspetta che troverò la quadra è vero non abbiamo fatto la stream squad che per adesso non è che fate vedere il tuo gatto allora i mostri nel muro sono randomici abbiamo scoperto questa cosa qua perché qui non c'è sì sì erano randomici parla parla aspetta adesso devi aspettare sta tornando sulla lasagna che ho coprato il supermercato non era granché che cazzata comprava la lasagna al supermercato e mi andava tanto la lasagna ma di farmela non avevo manco voglia quindi capibile la cosa grazie a tu per i 63 mesi a diga per i 72 a t-rex per i 15 e a giorgia per i 44 è andato? che poi la lasagna 9 volte su 10 e purtroppo è una percentuale vera mi fa super cagare il ragù di quella che mangio al supermercato settimana scorsa ho inventato la mia ricetta preferita ok che praticamente avevo delle patate lesse avanzate in frigo condite con un po' di prezzemolo sì e sale ok buone però erano poche ok ho detto cazzo non mi bastano queste mi sono fatto la pasta con ragù però ci ho messo anche le patate dentro con le patate vabbè ma non ti preoccupare ragazzi ragù ragù con le patate oh porca miseria che roba ragù con le patate è interessante sì sì patate lessate tagliate piccoline le patate lessate vanno ben con tutto io ho mangiato un mochi in Giappone che era patata lessa e fagioli rossi ma tu non hai idea di quanto cazzo era buono ma era veramente buono non aveva la parte di merda del mochi quindi no a parte il fatto che i mochi che si mangiano qui sono è una cattiveria verso l'umanità secondo me io non capisco come la gente possa apprezzarli lì infatti non ne ho mangiati ho mangiato solo quello ed era buono mi sono un po' pentito di non aver assaggiato altri mochi quelli sono quelli che fanno col martello te li hai visti quelli che fanno col martello non ho visto martelli in tutto il mio viaggio in Giappone dovresti chiedere agli altri non hanno visto martelli loro no non li hanno visti ma sei già dentro non ci sono carpentieri non ci sono no aperto lui aperto i mochi sono squisiti di qualsiasi tipo guarda se sono quelli confezionati o quelli che ti vendono qui nei ristoranti ti posso assicurare che è una cazzata questa cosa qui proprio no ogni tanto mi viene voglia di quelli ai fagioli rossi i fagioli rossi mi piacciono da morire i dorayaki i cazzi incugliachi quelli mi piacciono un casino sì ma non mi accecare però dai stiamo lavorando grazie ma ci puoi andare subito qui nella boiler room ma tanto non cambia un cazzo è randomico quindi a qualche parte dobbiamo sempre partire c'è ragione c'è ragione non sa sprecare la torcia ah già una foto ho trovato la raccolgo anche se anche se non sappiamo magari la devi far vedere a lui è una foto sua è una foto imbarazzante del liceo e dice no è nera eh vabbè ma era al buio cosa ne sai tu del polo ho trovato una batteria la batteria del generatore ma che cazzo di che quale generatore c'è un generatore che poi i generatori vanno a batteria con la batteria della macchina quando mai un generatore andrà a benzina un generatore di base è una batteria cioè una batteria è un generatore quindi oh cazzo si è fatto sgamare dal pastardo è impossibile e non gli devi passare davanti quando guarda che cazzo è la batteria di un generatore magari per avviarlo a me i moci che mangia ho trovato un una tronchese a me i moci che fanno in Italia mi fanno veramente sboccare mi sembra di mangiare delle merendine praticamente si ma sono colla e muco si e invece là non sono oh una chiave dove sei e sono dove c'è il gas che esce però posso switchare ma sei passato sei passato dal let me out io ho calpestato dei vetri quindi ora mi moco si si è uguale abbiamo fatto lo stesso percorso eccoci qua sono passato covacciandomi non mi ha sgammato lo stronzo vabbè comunque ho trovato una chiave o la batteria guarda batteria chiave chiave che sono un mago trasformo la chiave la chiave sembra importante me la take cosa c'è scritto qua l'ho fatto durante la il potere della corrente che è andata via è andata via la corrente non sapevo come dire corrente il potere della corrente è scomparso ho trovato sono andato nel suo ufficio e ho trovato una stanza segreta ah dove c'erano dozzine di persone morte foto però devo nascondere le mie tracce torno indietro la mia cella e trovo un modo di mandare queste foto ai miei ai miei parenti cioè ai miei genitori come si fa come le manda le foto chiaramente dall'isolamento spero che il dottor Kaufman non si accorga di nulla ma come fai a mandare delle foto da dove siamo scusa le persone dovrebbero sapere cosa sta succedendo qui eh boh ci fa l'aeroplanino e le lancia dal muro quindi tengo la tieni la chiave io tengo la chiave che sembra l'ufficio la chiave dell'ufficio eh certo dove ci sono le foto quindi dobbiamo raccogliere le foto e riportarle nell'ufficio spero proprio ma le ha tirate fuori da lì eh non lo so non c'è una modalità un po' più semplice di questo gioco cioè non c'è una modalità non c'è una modalità no ok non c'è ho chiesto magari eh ti sarebbe piaciuto senza il mostro pisnello se no vabbè magari avendolo che non ti attacca da metà della mappa ecco allora io ho sentito dei fassi eh eh che cazzo nel culo bastardo l'ha fatta a te eh sì non mi hanno ancora preso ma sono praticamente morto ragazzi io ci credo eh Moro io sono scappato perché sono un fenomeno sei veramente una sega eh questa cosa gatto no è là mi ha visto tutto mi ha visto tutto io se mi metto qui non mi può prendere ragazzi guardalo guardalo come non mi può prendere mi ha visto mi ha visto ma sono invulnerabile ragazzi eh sono invincibile scappato io non ho parole io non ho veramente parole cazzo ma ancora qui però se ne va se ne va il merda il gran vigliacco il gran visire della vigliaccheria proprio mi hai passato davanti qua ah ma mi so la merda qui non si può togliere la merda eh se la pesti sì però ti rimane appiccicata dai piedi non voglio no incredibile comunque incredibile oh porca miseria zitto pensavo fossi il mostro andiamo un po' se accendi la luce eh eh cazzo non vedo ci sono i vetri per terra mi faccio mai i piedi e metti gli occhiali metti cosa c'è qua ah è una tendina guarda pick lock e non ho il pick lock ah prova a vedere prova a troncheggiare no ma c'ho delle tronchese eh no ma guarda che questo qui bisogna perché dopo si accorgono che le ero ma c'ho delle tronchese eh ma si accorgono sai lasci le tracce con le tronchese l'ha detto che le deve ai dare le tracce vieni qua ah già andiamo su occhio a non pensare lì la merda che fa gniacchete sì ma c'è il parquet in mezzo alle scale di cemento eh avrà riparato avrà riparato una piastrella aspetta aspetta ah qua sicuro ti usano le tronchese vedi le ho consumate le tronchese bene sono usegetta sono beh buona sapersi vuol dire che ogni oggetto poi dopo si infila e non dobbiamo fare avanti indietro con mille cazzate oppure bisogna trovare più tronchese eh ah dici che sono proprio rovinati sì testa di pane dov'è mi metto dentro il frigo ah sta seguendo te vabbè stop come sta seguendo me ma io mi sono buttato di sotto cazzo si è girato c'è una roba tutta ma neanche mi ha trovato ma come ha fatto ma è un fenomeno no vabbè ma è impossibile questa cosa non ti preoccupare che ce la facciamo intanto prendo questa pila eccoti qua beh sei qua su sei vicino ora vado zitto zitto e vengo da te ma no siete trasportato non c'era modo proprio bravo bravo mi son buttato giù di un piano e ho fatto un giro a cazzo non è possibile che mi abbia trovato cazzo urli sono qui vicino no dall'altra parte e vedi e urli a sto cazzo vieni qua eccomi qui i punti deboli del mostro sono nessuno come sempre quando c'è il mostro qui se lo vede la batteria come la cambia qui c'è un altro lockpickatore eh ma non hai non hai le tronche non hai lockpick non hai le tronche ma è un cazzo ma altra sei uno stronzo eh sei stato tu cretino ma è cretino era qui erano pure pure il mostro oh guarda che candelene ma basta con sto let me out come faccio usare le pile allora mi ha preso ho sentito oh ma sei sotto testa di cazzo porca troia arrivo è ho premuto con i piedi. Guarda che bello se giro il mouse così che effetto bello. Testa di cazzo, testa di cazzo testa di cazzo. Guarda che si fa prendere il coglione guarda che si fa prendere Zitto Oh Che musica rock and roll Senza nasconderti Vai via, pezzo di merda Vai via E sta pensando Ma cos'è che dirà? Dice Vitas Squiz Ha una canzoncina Vitas? E' lui Occhio alla merda, non pestarla No, non è possibile, gatto Ma scusa, ma eri al terzo piano te? Eh, sono corso di sopra Sì, però sotto c'era lui Ma... Dovrei gettare il pezzino sul po' come è stata colpa di Moro Vabbè, un classico Ma stai zitto finché guardi per terra non mi vedi orca troio gli ho premuti no gatto è come prima sei dall'altra parte ah guarda devi andare qui a sinistra poi a destra prima farò questo no non è vero che devi andare a destra comunque no ma probabilmente è qui solo che adesso lui arriverà qua perché ho premuto basta premere non ho premuto niente ho calpestato i vetri ma forse non arriva però non mi ha sentito io non lo vedo allora vedi che non è però è tornato il signore qua vedi lì c'è una scatola di fusibili eh vabbè non non ci informiamo è sta di cazzo si sto siccome devi andare qui a destra no scusami dietro di te ok pippo lì devi andare ma che ce la fai spegni la luce magari non mi vedrà mai e invece mi sa che t'ha visto dai pezzo di merda frankenstein infame proprio penso che ho trovato a richiudere l'armadietto ma scusa ma perché ma cos'è questa merda qua cioè lui caga questa cosa qui tipo la guerra dei mondi però nero l'obscurità si che tanto ricorda un po' la merda che c'è addosso il tyrant di resident evil 1 non ho giocato non hai giocato come non hai giocato resident evil 1 no non è niente allora è perché l'unico che è il remake che l'hanno fatto uguale al primo con la telecamera però guarda te lo consiglio per il ds che si gioca che è un piacere per il ds per il ds era bello perché aveva anche una modalità in più che ogni volta che aprivi una porta a cazzo poteva capitarti o uno zombie o un cane o un pipistrello e li dovevi accoltellare col pennino e scusa ah ok era un minigame così il pennino si rompeva dopo un po' il pennino non si rompeva perché era in plastica dura nintendo ci aveva lavorato bene però se picchiettavi troppo sullo schermo lo schermo un po' si rovinava io penso di non aver mai visto un ds ai tempi con lo schermo messo bene guarda il mio non era messo male ma però messo bene qualcos'altro esattamente e lì non è stata colpa di un gioco qualunque ma proprio di Wario Wario me l'ha fatto proprio sfondare eh sì ok dobbiamo tornare di là gatto questa volta sappiamo cosa fare immagino no gatto non mi dire che hai prenduto il pulsante ho detto magari mi va di culo che dobbiamo fare a fare che scusa la cosa è bellissimo che cosa lui eh non mi vedrà mai mi ha visto è uscito dalla parete ha fatto una merda nella parete sì 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 questa volta l'audio era veramente immane era per vedere era per vedere che visto che è randomico magari mi va di culo c'era la combinazione già esatta e scappavamo no perché no sei astuto tu eh ci ho provato ma bué cazzo tra l'altro non abbiamo mai più ritrovato i simboli eh moro io adesso ti salvo scappa via però eh no no stai contro il silenzio scappa via che sto morendo io gatto mi ha già preso come sta uccidendo me ha finito l'animazione adesso ero davanti a me era non mi sono neanche scappato perché mi sono girato i coglioni gatto cosa cazzo urli che sono ingolfato nella merda che falle che si gira verso la telecamera mentre ramina la merda lì eh sì lo è no è una roba che secondo me valeva la pena provare vai ah per fortuna è così semplice avviare la partita sì ma ogni volta devi fare refresh sette volte per fortuna la partita tu potresti usare per i giochi advance è vero ah perché tu l'hai spaccato in due ma te sei un criminale scusami per avere un gameboy advance brutto praticamente beh cazzo però con lo schermo retroilluminato eh anche l'advance ce l'aveva retroilluminato no solo l'sp cazzo vieni fuori l'advance quello wide non ce l'aveva no ma che storia ed è un gran peccato perché allora l'sp era eccezionale tra l'altro sai che no mi si aveva fatto questo discorso nel gruppo dei sub ultimamente che mi sa neanche tutti gli sp ce l'avevano retroilluminato no no ce l'avevano tutti l'sp era proprio col tastino centrale no si discuteva che c'era qualche c'era un modello di sp che aveva lo schermo della madonna mentre gli altri faceva cagare al cazzo invece allora c'era questa differenziazione che alcuni schermi erano meglio di altri come è successo negli anni perché per farne tanti velocemente non si erano appoggiati tutti alla stessa azienda se non sbaglio adesso non vorrei dire cazzo oh guarda è tornato il triangolo con il tre però con il tre con il tre esatto si appoggiavano a più aziende per produrli e quindi alcuni avevano uno schermo diverso dagli altri però non mi ricordo queste grandi differenze e il fatto che non è che c'è la switch OLED no era proprio un lotto di fabbricazione appunto che era tanta la differenza però avevo visto la comparison e si vedeva non lo so io ho trovato le tronchesine che vanno usate sempre su le tronchesine e penso di sì qua ci sono c'è un'altra foto qua c'è il coso dei fusibili credo modello GS001 modello GS101 ah il 101 è quello con gli schemi molto molto belli e vedi è un botto di foto qua quindi si presenta hanno fatto un upgrade e l'ha fatto anche Sony questo lavoro qua sai lo ha fatto con la la Playstation Vita il secondo modello che ha fatto uscire l'ha fatto con uno schermo più pezzente perché la Playstation Vita è una console che è morta subito e non ci credevano pensa che adesso vogliono fare una cosa che morirà ancora di più no per me è una stronzata quella dai no più che altro magari è anche vera non ci credo no non possono essere così stupidi magari magari è anche vera ma dopo PSVR 2 credo che staranno fermi con le mani per un po' no allora purtroppo Sony ti sei fatto sgammare ho sentito sì dal cosa purtroppo Sony è veramente pomposa e sa benissimo che il proprio pubblico farebbe di tutto pur di spendere i soldi nelle sue stronzate solo che con Playstation V2 come dicevi giustamente tu è rimasta bella scottata perché è stata una mossa del merda stiamo parlando di cosa si chiama Q ho provato la chiave Project Q Q Lite Q Lite una roba del genere io ho riaperto le cose con i tronchesi io ho sentito da qua tra l'altro e pensa a lui e che cos'è fondamentalmente è un leak attenzione è un leak è un leak da quel che han detto sarà una poi dipende perché i leak un po' si sono smentiti un po' no hanno detto che sarà una cloud console ma poi hanno detto che non è vero sarà una cloud console poi hanno detto che invece sì sarà una cloud console ma sarà principalmente una remote play console cioè esatto un controller con lo schermo per giocare alla Playstation è il padrone del Wii U però con la connessione nel culo cazzo prenda te prenda te è vero prenda te non prenda me eviterei però io certo eeeh per te che forse l'ho scampato ma bisognerà ucciderlo quindi eh speriamo io forse gliel'ho tirato nel culo eh è un'ottima cosa tirarglielo nel culo comunque questa console appunto tipo Playstation Vita solo remote e con una connessione dati quindi giocare in cloud portatile come la console che puttana nel culo ma che sfiga mi ha preso preso eh si è girato ma ha visto ho detto oh perbacco ciao eh no mi ha preso no? sì eh mi ha preso preso però esistono già console così è che loro lo farebbero legato solamente ai servizi Sony ma è una stronzata proprio la console così in realtà il problema è che il remote play te la puoi usare col cellulare sul cellulare anche su Steam Deck senza problemi per esempio posso presumere no non lo so non credo c'è l'applicazione c'è l'applicazione per il cellulare basta che io sappia di ufficiale Sony c'è l'applicazione anche per PC quindi presumo ah no anche per PC hai ragione sì sì io penso che prima di usare l'eligato è vero è vero mi ricordo che usavi quello oh pazzo miseria allora però non lo facevi in portatilità però lo fai col cellulare quindi non vedo proprio il senso di vendere un hardware per fare quel lavoro lì mi do l'app il remote play ma lì non ti possono vendere altro hardware è lì che sta la oh una polaroid fatti un selfie e me l'ha messa come secondaria della torcia I can blind him with this l'Aleveccio se stai registrando vi terrei discorsi che poi mi tocca montare tutto ho capito però non è che possiamo parlare dei massimi di che parliamo siamo qui a parte Ale che cazzo vuoi montare il tuo gioco ormai allora aspetta eh qui prendi tagli da qui proprio fino alla fine poi si succede qualcosa aspetta rifaccio la scena Ale cazzo ho trovato ho trovato la macchina fotografica posso accecarlo eh urla gatto urla scusami ehi la cazzo di sotto sei maledizione si no hai ragione hai ragione però butta via tutto butta via tutto eh se stai registrando butta via tutto perché fino adesso ho premuto il pulsante devi tagliare via tutto finché non facciamo un minimo progresso il progresso qui non esiste ho trovato la macchina fotografica gatto scherzi non accendere la luce scemo no ho fatto il flash dove cazzo pipone grazie guardate il giorni gamer poi gatto ho visto ho visto ho visto era usegetta coglione lo sapevo guarda ho pestato la merda è uscito il giorni gamer è uscito ma non l'ha guardato nessuno sai non l'ha proprio guardato nessuno infatti ci sono rimasto due tre settimane di lavoro ho pianto ho pianto sei casato guarda alla fine mangio mangio qualcosa come immagino che immagino che alla fine mangi qualcosa però mangio diverse cose in realtà ma guarda che sono sono molto soddisfatto ho fatto veramente un bel lavoretto è molto bello il giorni gamer fila che è un piacere io stesso l'ho guardato quattro volte non credo questa cosa ti giuro non sto scherzando ho guardato quattro volte tutto quanto oppure schippando un pochino per controllare tutto tutto l'ho riguardato godendoselo proprio sì e poi erano tra l'altro quattro versioni diverse pensa l'ho migliorato certo però sempre a modificare la realtà no sì però l'ho riguardato ho riguardato l'interezza che sono 48 minuti ho guardato 48 minuti 4 volte grazie Giallo lo guardo io stasera con la fidanzata me la saluti grazie ecco i sottotitoletti i titoletti non c'erano nella seconda no nella terza stesura li ho aggiunti e poi dopo l'ho riguardato tutto veramente è stato uno dei vlog uno dei video in generale che ho riguardato voi vi filate di uno che prima vi dice l'ho guardato quattro volte poi ha detto che avevo guardato lo stesso video ma ha modificato quattro volte sentite come si modifica no 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 l'ho guardato tutto e poi l'ho modificato e l'ho riguardato tutto e poi l'ho modificato e poi basta non sono arrivato io non mi fiderei di persone così comunque beh fai tu eh fate voi dico io gatto non era giusto gatto mi hai rotto i coglioni maledizione tanto questo arriva in culo a me la seconda parte dura un po' di più perché non sapevo come spezzarla la prima dura 22 minuti la seconda 27 sento Vitas eh sta parlando senti e quando dice Vitas secondo me quando spawna dalla parete no mi hai passato davanti e andato a vedere i televisori vabbè Moro gioco dei conigli non è possibile l'ho rimborsato era bellissimo eh ma 15 euro ma è anche la stessa stronzata che mi voleva vendere Lino e Francesco ieri sera sì eh guarda sicuramente sì l'ho fatta con loro ah beh oh ci siamo divertiti un botto eh sì sì ma i livelli di come si chiama quel giochino con le spade devi correre avanti e indietro ah cosa oh oh aspetta eh ho capito qual era comunque c'ha un nome scemo c'ha mi viene noita ma noita c'è per niente porco mondo non dovevo farlo ragazzi no è un peccato a me porca miseria Knit Dog Knit Dog sì mi veniva Poggers ma non era tanto lo stile di Knit Dog e nell'1 era pixel art nel 2 diventa tutta una roba particolare fa cagare nel 2 tra l'altro mi piace più quella dell'1 o la grafica e quella del 2 è diventata tutta partita cioè potevi fare più cose però tutta spixelata graffitara era dal 2 sì era un pochino me allora aspetta sei qui stavolta sei qui per davvero potevi farne un intero di 10 minuti di che cosa di Knit Dog ecco qua allora qua dentro c'era una sega eh batteria la prendo era bello come giochino però era molto fino a se stesso tanto Knit Dog lo vendevano a una cifra veramente importante sì Knit Dog è quel giochino che devi avercelo per quando sei a casa con gli amici ubriachi marci se vi fate la partita anche non ubriaco marcio 3-4 euro no però da ubriaco marcio è ancora più divertente secondo me e ti fai la partita così dove ti sfondi con gli amici e ti prendi a parole male eh Knit Dog fa veramente incazzare tra l'altro è bello è mai competitivo da morire eh sì allora vediamo un po' di trovare qualcosa eh qualcosa dico le pubblicità sono tantissime subbatti e corri in culo a twitch i suoi metodi fastidiosi di mettere pubblicità triangolo 2 sì ok qua c'è una scritta oggi ero vicino al telefono di malcom aspetta che lo sento ah è sopra se no stava stendendo le scale nel corridoio non verrà proprio in questa stanza tanto ragazzi figuratevi ok per le pubblicità ve l'ho detto ragazzi mi dispiace un casino però è così che devo fare mi ammazzo sono arrivato dei coglioni lo sento ancora un pochino ma sono tutti ostini a parlare cosa vorresti dirmi eh Moro cosa hai detto non capisco se la pubblicità manco ti sta sentendo eh ho capito allora che si lamenta fa allora aspettato finisce la pubblicità ma cazzo siamo di nuovo all'inizio e vabbè andiamo su per scale no aspetta di qua c'è le termopili andiamo a vedere o sei già stato di qua no ma è cella non telefono ah ho letto cella eh ho sbagliato hai ragione come mi fanno incazzare questi giochi guarda qui c'è una batteria quando c'è della pubblicità cambio stream e torno dopo qualche minuto quando vedono non è goblin ma specifico per canale io non ho capito cioè la pubblicità parte per tutti i canali semplicemente c'è chi ha sfiga che gli parta molto di più anche perché io la mando ogni 30 minuti immagino come i termos no non so se anche voi no noi la mandiamo ogni 8 minuti 3 minuti di pubblicità ah ok vedi noi siamo proprio degli infamoni ci sta ci sta la mia ogni 30 minuti quindi insomma venirmi a cagare il cazzo per questo mi darebbe un po' fastidio cioè mi dà un po' fastidio che poi è vero che ne partono un casino anche Karim me l'ha detto però che devo fare è perché se tu mandi sculato di merda è vero lui c'è i banner a me non partono i banner che devo fare se tu mandi un minuto di pubblicità non è che te ne manda due pubblicità da 30 secondi te ne puoi mandare anche 6 da 10 no ho capito ma non è quello il punto il punto è che dicono che ne parte più del normale però io ne mando no perché la gente non sa niente però ho trovato le tronchesi intanto io la mando veramente ogni 30 minuti e che 6 pubblicità da 10 secondi sono le percepisci molto di più che 2 da 30 capisco benissimo e mi dispiace e non lo puoi decidere quello no no ma io metterei solo banner cazzone c'è il cazzone cazzo stronzo di merda ho trovato una batteria che non so no non può aprire questa porta smettila mezzo di merda ma ero sotto sono passato nel buco e zitto doglia che sei un elemmusinatore i banner sono a caso ragazzi credo che dovrebbero capitare un po' a tutti però io da Karim vedo solo banner solo banner non ho mai visto una pubblicità non schippabile da Karim solo i banner non so se perché lui è più grosso ne ha dato no credo sia in quelle feature che Twitch attiva in beta su qualche canale eh no infatti perché magari lui è più grosso e gli hanno dato eh lo so però magari gli hanno dato a lui quella perché anche noi ce ne abbiamo i banner eh cioè è flegato da me immagino anche da voi è flegato c'è scritto vuoi mettere i banner sì però se non parto non li devo fare perché non posso decidere di mandare solo i banner eh dai che è qua è niente eh Moro mi sa che ci tocca mangiarci un po' no è uscito the noise ti sei cagato d'osso no tutto qua con la prematura della mano eh perché mi sono girato a sbirciarlo non so perché ho detto va vola mi salvo non siamo riusciti a fare mezza cosa e vuoi cambiare per me va bene perché è stato pesante inutile proprio poi chiacchierare mi fa piacere ma non lo so io cambierei dai io ho ant installato se vuoi fare un revampo oh dio mio hai fatto quitta al gioco eh a me è venuto fuori una pagina d'errore incredibile vabbè sono entrato nel computer tra l'altro sì no va bene vuoi fare ant e se ti va sì anche perché non so se abbiamo altro in comune se no da scaricare eh non lo so dai che su ant siamo i più forti effettivamente questa non è una bugia eh possiamo vantarci di tal titolo mazza che luce che mi fa purtroppo ragazzi eh non possiamo pensare che i giochi horror indie siano dei effettivamente non belli eh giochi ecco poi vengono a dire eh però dai non potete essere così cattivi verso con questi giudizi quando probabilmente lo sviluppatore è da solo a sviluppare senza scarpe non al cibo e tutte queste cose vengono a capire comunque al di là delle pubblicità non pubblicità io personalmente ma anche i termos e molti altri diamo tanto contenuto per per chi è sub se avete piacere di guardarvi 60 ore a settimana di live che facciamo usate il prime e andate tranquilli e oltre ad evitare le pubblicità avete anche tanti contenuti speciali come discord per i sub le emote i video le live esclusive cosa avete fatto oggi vi ho detto ci siamo guardati ho fatto il watch party si e ci siamo guardati un gran film moment che cazzo è stato con i sub si anche con i sub se c'hai il prime non c'è neanche bisogno per forza che sei sub ma ti basta avere il prime poi se sei sub naturalmente lo vedi anche meglio il film questo è un dato di fatto per favore attiva l'opzione Steam Overlay nelle possessioni di Steam ma allora mi si è tolto proprio lo Steam Overlay ma te l'avete venuto proprio fuori l'avviso si ho guardato After lo consiglio veramente After non lo conosco no allora è uno scherzo gatto non lo guardare è un film adolescenziale tratto da una fanfiction sugli One Direction ah scusa un secondo abbiamo fatti quattro ti blocco perché devo capire dov'è la lo Steam Overlay da dove l'ho attivo perché l'interfaccia non c'è ti tiro un pugno allora sarà in gioco in gioco eccolo qua l'ho trovato guarda subito l'ho trovato però io guardavo l'interfaccia mi sembra la roba più ovvia no comunque mi dice che non ce l'ho scusa e non funziona forse perché devo chiudere e aprire il gioco shift tab ecco qua che bella la musica femminile provo a richiudere chiudo e riapro frantelle le dici rinnovare l'ora si rinnova grazie mille tutto lo Steam dici adesso ho visto che si possono memorizzare i loadout addirittura memorizzare i loadout figo non l'ho mica visto però mettendo questo loadout qui che l'ultima volta mi sa che avevo fatto il ganso col pompa e il mosim smezzato e comunque giusto per concludere il discorso il nostro lavoro c'è dell'impegno dietro io capisco la pubblicità è un'altura di cazzo cerchiamo di metterne sempre poca però non volete pagare ci sta per l'abbonamento nessuno vi costringe però almeno non cagateci il cazzo sotto cielo perché non stiamo mica accoltellando nessuno vediamo un po' shift tab funziona? eh non funziona che ti devo dire non funziona io ti maliderò no funziona 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 oh la oh la ah mi hai invitato grande oracolo a te è piaciuto after fa vedere spogliati completamente fammi vedere che sei nuda a quanto pare questo è un bug che può capitare dal 2020 dello steamoverlay ma mi è mai capitato pensa a te ma non ne sapevo nulla ma neanch'io eccomi qua ma ti hanno bruciato la testa no no il mio taglio di capelli ah ok l'ho fatto a fuoco la sfumatura alta sì ah io voglio prendere questo qui tutto sborone bonus dalla prima taglia giustamente cazzo per lei ha kimbo con la coppia di pistole sborone ed è gratis no io prendo lei prendo lei guarda lei com'è sborona la contessa tabita whitby la contessa addirittura lei conti gran merda comunque se posso dirla mia non ho perché ti prendo sul corso sti cazzi non ce lo mettiamo vai la traduzione è un po' meglio da quando me l'hai data però c'ha comunque le sue lacune ma io il font è giusto eh eh boh non capisco cancella tutto io ho cancellato la cartella come ti ho detto poi ci ha messo un po' e via è che però a volte vengono fuori certe robe tipo ieri no ci guarda che l'ho fatto ieri è venuta fuori una certa che il binis nono di non mi ricordo che aveva perso a una gara di piedi e mi aveva fatto morire che palla la gara di piedi però a me dispiace un po' che quel gioco lo dicevo anche stamattina io vorrei fare solo il master non vorrei essere parte in causa è vero quello è vero perché purtroppo soprattutto noi che siamo in live poi ti capita no? che ci sia la gente che vota anche solo per darti contro o perché è la live e quant'altro quindi vorrei solo fare il master io non mi interessa vincere cioè io infatti gioco un po' facendo me la ruolo proprio anche se perdo a me non me ne frega niente no anche io però è un peccato è un peccato eh sì se fosse fatto apposta sarebbe meglio cioè se io fossi proprio esentato dal poter vincere me la goderei molto di più sì fare solo lo storyteller è quello e via eh sì guarda come sono sborone io a Kimbo così dove sei? eh non so ancora assolutamente ma cosa c'hai? il computer è a petardi vieni qua guarda un sacco bravo eh hai visto? un casino guarda qua guarda questo è un coltello che fa schifo quel coltello il cazzo quello è un coltello da sfigato guarda che questo qui ci fa il mister conoscolo dai dandini non fa perforazione quello eh chi se ne incula eh la cosa più importante no non lo devi fare sì che lo devi fare ah chi c'è la vecchia non l'ho presa gatto purtroppo è finita vale bravo non è più come una volta eh io c'ho le wallere qui com'è che si faceva con la E di Y non è la E di Y come no? è sbagliato il tasto ma la E di Y si no la E di K no è la E allora primo indizio qui è veramente ai 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 ragazzi questo cavallo era ancora vivo l'ho ucciso bravo bravo aspetta che ricarico 8 colpi non serviva niente che cazzo è? guardi però intanto hai visto hai visto chi comanda gliel'avevo fatto vedere no no ma lui non si azzarderà mai più a a dire una sola parola sparano? eh da lontano lontano eh cazzo non mi sembrava così lontano lontano eh cazzo levati dai coglioni che eri proprio nel mezzo del passo ah qui a sinistra c'è roba si dobbiamo andare qua a sinistra c'è anche lo schioppo senti che bombe che tirano eh però in un gioco sì figurerei non può non partecipare ma partecipare sì ma io non voglio vincere non voglio vincere mi piace interagire con voi vorrei essere un po' non essere il re ma essere un po' dio esatto che vi posso far capitare delle cose un po' come il gioco l'hai giocato poi alla fine quel gioco di dove facevi dio? worldbox sì tra l'altro l'ha uscito un aggiornamentone ultimamente ma non ho capito che cazzo ha messo però infatti ci stavo proprio per citare quello lì perché sarebbe fighissimo quel gioco lì eh dove c'è la gente che gioca dove i pupini sono la chat e prende le fazioni esatto cioè io io semplicemente ogni tanto mando mamma mia che casino veramente un burdellaccio eh e morite ok è bello che fate pizze con i sub ma non è vero no non è vero perché a me non interessa fare quello anche perché delle volte perché voi volete litigare con me è diverso eh esattamente poi dopo viene meno proprio quello che sto facendo il ruolaggio eh sì perché si diventa meta subito sai cos'è che gli manca anche? eh le alleanze è vero ognuno per sé sono tre fazioni sono tre fazioni però però è difficile comunque metterli d'accordo perché appunto si è creata una dinamica nel senso che stavo vincendo io e e perché me la stavo prendendo un po' con i rossi per per perché mi serviva avevo proprio bisogno perché i rossi mi votavano contro e erano certi i rossi stavano perdendo stavano vincendo proprio vincendo vincendo i viola e dovevano arginarli i viola altrimenti avrebbero vinto e alcuni saltano fuori dicendo ah piuttosto che veder vincere te faccio vincere loro ma come? no quello non ha senso eh no noi tra l'altro aspetta che sento i passoni zitto testa di cazzo cavallo Fanny io ne va ieri ma mi fa condivido l'anniversario anche stasera grazie ancora grazie mille anche a lei Fanny ti saluta comunque chi è? grazie capitan eh Fanny Fanny Merlin ciao mi dovete neanche il suo compagno di gioco che saresti tu scontami io ho sentito casino è uno qui l'ho renso testa di cazzo dov'è? qui da me è sparito è mago è lì sotto è lì ho sparato nel culo il bastardo è morto gli altri saranno dentro lui faceva la guardia da fuori il bastardo ma sto coso rosso è semplicemente perché c'è gente lo prendo è rosso perché c'è gente sì confermo diventa rosso quando c'è gente in giro no è che facciamo un casino bestiale hai del fuoco hai del fuoco che gli dobbiamo dare fuoco al cadavere così non lo restano più è un accendino qualcosa un accendino vai vai mi sembra un po' esagerato ma va bene è questa c'avevo c'era la lanterrina qui basta prendere non si può allora ma è qui dentro o questo era uno stronzo da solo ma come sta bruciando cos'è un petardino no 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 se è rosso quello eh no allora era rosso effettivamente però ancora però non è no adesso perché l'ho preso non l'è più stanno correndo qui verso della gente moro al 100% c'è gente vieni qua vedi i mostri che corrono e c'è uno lì in fondo è corso lì nella prateria nella nella radura nel bel bel mezzo è andato è andato è andato cazzo è è morto che paura è tranquillo è morto eh senti che ha sparato e non ti dico come perché è un po' volgare ha sparato ma era da quella parte è qui Lorenzo è qui lo coltello nel culo lo coltello nel culo l'ho ucciso dimmi che l'ho ucciso gatto ti ho ucciso no il signore è morto il signore guarda che l'ho ucciso coltellato nel culo è morto mamma mia è fenomeno non so se ti ho ucciso io a te no mi ha ucciso lui me l'ha detto mi ha detto che mi ha ucciso lui si fruga il cazziatone qui sapete che mi devo curare che ho bisogno tanto due coltellate glielo date bravo allora lui c'aveva un eh però devo eliminare tutto questo per avere il Vetterly vale la pena prendermi il Vetterly eh non lo so eh cioè vuol dire dar via tutte le mie armi per il Vetterly che sarebbe anche forse meglio dov'è non lo so è là è te preso è là dietro eh eh aspetta che faccio il giro di qua lo sono incastrato proprio dietro quel bancale di buste si starà curando è ancora lì dietro ho furgato il cacciatore ok l'ho preso di nuovo bravo si è rimesso di nuovo lì dietro si starà curando ancora ok credo di averlo ucciso ha urlato dire di sì mi ha colpito però il merdaio eh ah tu hai urlato allora no ha urlato anche lui infatti è morto ok allora no la lanterna serve solo ad accenderla purtroppo vedi il prompt cosa fa c'è va la balestra questo qui basta che paura che è questo rumore la balestra è micidiale se sai usarla non è il nostro caso no no lascio stare a marco queste cose qui sei da stronzi con le frecce allora il buco è bianco quindi direi che possiamo andiamo verso il mostro possiamo andare a mostreggiare ma è qua non è qua oh perbacco sparano questi sono vicini eh vabbè andiamo verso il mostro poi vediamo ma basta sti cavalli mi hanno rotto i coglioni mi hanno rotto ti ho fatto paura perché io sono mostruoso la prossima offer 2 io divento di rozzano eh K sa che anche l'oracolo dopo quello di oggi stiamo attenti al back eh mi raccomando sì perché sono allora non dovrebbero essere in questa fortezza qui no sono più indietro era in quella più a destra con rabbia però potrebbe esserci anche gente a destra io non so se voglio farlo il boss ah vuoi fare l'infame eh quasi che volendo che volendo cioè visto che sentiamo gli spari da là siamo tanti potremmo trovare è estate fa caldo sei zitto basta le citazioni che capiamo solo di te di 80 anni fa ormai pensa che mi devo scaricare Spotify adesso pensa a te questa cosa c'è la vecchia perché? è perché c'è lui ah il podcast qua c'è ferrario con quello che è andato a come si chiama LOL come si chiama il comic costantino Luca Ravenna esatto Luca Ravenna e Edoardo Ferraio che hanno un po' di cast assieme che si chiama Kashmir ma è esclusiva di Spotify mannaggia le loro mamme mi è capitato per sbaglio una puntata su YouTube ma sai che sono veramente bravi è qua il boss su Spotify si su Spotify se vuoi se ti interessa il true crime ma non abbastanza da da ascoltartelo c'è quello di Jax che è molto divertente ed è esclusivo pure quello mi tira il culo perché è l'applicazione di podcast una delle robe che più adoro è proprio che ho tutto lì domanda Spotify è l'applicazione per l'Apple Watch? presumo di sì dai eh non è detto eh perché adesso inizierò palestra mi metterò sarà giovane perché adesso che vanno in palestra mi li metto sull'Apple Watch là ok allora quasi qua però mi tira il culo per un unico podcast usare Spotify neanche la moca è su Spotify cioè è su Spotify ok vi ringrazio testa di cazzo c'è uno qui gatto dov'è? sopra? è qua è qua no sarà qui allora l'ho colpito ma sono andato giù sì ahia c'è l'altro vabbè moro l'ho ucciso l'ho ucciso pressami ma là l'ho ucciso anche io eh ma dai ma scusa ma mi ha colpito una gamba con la freccetta guardala lì e mi ha ucciso? ma come ho fatto a shottarmi con questa freccia nella gamba? ma vaffanculo scusa ok li ho spattolati eh questi eh ho capito ma non mi può uccidere con una balestrata eh ma non avevi già più vita no avevo due tacche su tre dai non esageriamo io l'ho sparato era uno sparo? no è la bistia qui era avvenenata? non lo so era avvenenata? non lo so però mi ha shottato non è che mi è durato poco e adesso ho il mostro come cazzo lo faccio? che ho tre colpi la gamba da kill eh prenderò lo shotgun che devo fare? eh ma mi tira il culo però prende lo shotgun come inizio a fare il baos? arrivo eh io adesso ho una tacca di vita sola però non mi colpire oh pistola Gianmarco fammi il favore non mi colpire eh sparagli va là sparagli questo è un figliacco eh io sono il figliacco che sono da fuori eh ma così si va ando dall'altra porta io quasi quasi ah ci sono munizie qua eh eh le ho prese no non l'hai chiuso no quelle dentro eh sì no sono fuori sono fuori sono qua no fuori non l'ho presa però vabbè sono dall'altra parte ormai a me piace questo gioco da fare in live non è un gioco che tira ma mi piace è vero molto vera questa cosa è vero è vero ha già metà vita completamente eh ma col pompone così ma c'è il pompone cazzo cazzo duro cazzo duro spostati che ti stavo per sparare nel culo dai via gatto ma mi hai dato fuoco che palle dov'è signore faccia il favore sei attaccata alle tradizioni troppo a pensavo dicessi troppo quando hai detto troppo mi sono preoccupato dove va a parare con questo troppo mi permetterai anzi guarda Mary la signora donna della chat mi sembra mi sembra un po' veramente dov'è cazzo ah mi muore mi muore no vieni fuori mi muore vedi qui maiale ha perso la testa morto morto ma l'ha sempre avuto questo appiglietto sopra la testa guarda guarda questo cosa qua no questo pezzo di legno è nuovo o l'ha sempre avuto vabbè uccidiamo che mi fullo la vita oh là a posto c'è un'uscita qua vicino guarda a posto metto questo qui oh ha sparato spari ma che cazzo però sta gente cazzo si cazzo si c'è un high ground eh c'è tipo quella specie di faro qui fuori ma non è il caso secondo me guarda qua è buono qua è buono stai dentro tu che così non ti vedono comunque Kashmir ho visto la puntata quello lì con il cantante dei Mineskin che è fuori di testa ma diverso da loro ma diverso da loro esatto proprio lui sì e poi ho visto loro che hanno fatto uno a teatro ma hanno parlato veramente hanno cazzeggiato ed è stato proprio un piacere c'è anche di interessante non mi ricordo con chi cioè non mi ricordo chi sono i due grazie pezzotto per i quattro mesi mi capi spesso gli shorts te lo dico io è la mocca con il gatto Yotobi e Moro mi pare di sì è vero tintoria no è tintoria non la conosco però sembra divertente ragazzi io sono sopra il tetto c'ho più i ground così si muore letteralmente bravo posso entrare nella ciminiera a fare super mario ma figata cosa vedo i tuoi occhi da l'orel ma ci staranno 100-100 aspettando l'uscita comunque i miei occhi da l'orel hanno sparato hanno sparato ecco è laggiù uno ma hai messo tu la trappola sulla porta pezzo di bastardo ma guarda te sì tu che cammini che fai il pedestrian faccio produttore sì e laggiù non spareranno mica meno non possono avermi visto sono invisibile adesso no stanno arrivando sì però stanno arrivando si li vedo li vedo li vedo stanno arrivando come dei disgraziati poverini oh aspetta occhio anche a lì che mi sembra di aver visto qualche causcia ma magari è stato solo un colpo di fulmine è uno zombie dici che l'ho colpito ragazzi eh non lo so ti ricordo che puoi sparare attraverso le murette di legno no no ma era tutto nudo ah però l'ho colpito non l'ho atterrato a saperlo prima gli miravo la testa ma sono tutto nudo tipo sono tutto nudo quella roba lì ti 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 io provo ad andare un po' in avance coperta vediamo che c'è non lo fare non lo fare erano in due erano vabbè anche noi siamo in due a me non ti copro ah ok allora torno indietro perché invece ho paura ecco si sta muovendo stanno andando verso destra puttana ti hanno spaccato ma la faccia forte come sai sei salito su che ti vorrei ad aiutare eh ho fatto un giramista di cose forse da dietro c'è il modo di salire in sicurezza però ho fatto il muretto però ormai ti hanno arato il deretano eh se riesci a salire indietro sono coperto però eh ti sta arrasciando eh stanno arrasciando uno sa lo spark quindi da vicino eh te c'è il varmente delle palle qui mmm mmm no escape qui gatto eh sono coraggio come sei arrivato là è da no alla tua destra ancora alla tua destra non così tanto gatto che cazzo non è a mia destra tu vedi quel muretto rotto l'ho fatto ma perché sono salito eh però che sono un grazie eccolo lì il disgraziato spara attraverso preso che cazzo fai senza mirare è scappato stavo mirando ti pare ma non si va su di qua devi correre immediatamente sei circunnavigato ti sparano da ogni puzzo dai tiramelo ma che paura proprio eravamo circunnavigati ma no ma con che pistola incendiaria della vita mi ha ucciso questo qui con lo spark lustro della Louisiana che mi ha ucciso Hugh Jackman tra l'altro bello però dai stanno andati bene stanno andando la testa adesso ho troppa concentrazione fammi togliere la vestaglia e divento un uomo nuovo aspetta vedi ti dirò vestaglia miglior acquisto degli ultimi tempi io purtroppo non ci sto comodo normalmente cioè sono in pigiama fisso tra poco passerò alla braga corta mi tiene quel caldino che guarda io oggi ho comprato la decathlon dei pantaloncini corti ma quelli sportivi quelli proprio che ti lasciano le balle libere sì per la palestra che però sono quelli che in estate adotto ma tu non sei morto scusa sì ah hai già comprato la nuova personaggia bravissimo no ce l'avevo già di scorta questo ha già i punti e tutto io quasi prendo il ceco però fucile a pompa il ceco ah non so eh dai per dolce in secondaria metto la spada metto dai medikit guarda che è un'idea del cazzo la spada scherzi eh insomma se c'è qualcuno vicino li rasci li spacchi aumenti i danni da missioni coltelli da lancia anche io anche la vestaglia non è della vergintà di usi hai capito ho capito insieme alla coppola la coppola mi sta molto bene ma ci avevo fatto anche una moca mi pare sì eh io non ce l'ho la coppola dovrei dovrei acquistarle una ti consiglio poi dovremmo fare la moca brandizzata cioè la coppola brandizzata moca dovrebbero sì abbiamo ho sempre voluto essere uno stilista poi quindi ma è forza di cose è blade sì però è cieco perché vedi c'ho gli occhialini quelli da cieco comunque mi devo scaricare spotify pensa a te ancora ci stai pensando dopo una vita che l'ho disinstallato ero tutto contento che fa schifo porca miseria eh ti tocco a poco non lo puoi fare a meno eh no è bello è bello Kashmir però guardarmi i video su YouTube ascoltati ascoltati anche lì di J-AX ma in realtà a parte il fatto che i maledetti del cortocircuito non stanno facendo una puntata da una vita e l'ultima aveva una qualità audio talmente infima che l'ho dovuto fermare e poi c'ho c'ho coso anche profondo nero con Lucarelli di giallo con Lucarelli sì c'è demoni urbani anche Dark Souls seguo anche che però non è non è sul famoso videogioco Dark Souls però è quello con i due tizi no è uno solo che parla di serial killer avevo sentito uno con un ragazzo una ragazza ma avevano quell'umorismo da boomer che non ce l'ho fatta seguirlo per niente no no lui allora lui è uno solo e mette anche i suoni la musica e tutto quanto non è male avevo sentito qualcosa di Dark Souls è che esce una puntata di morte di papa però DJX finita la quarta stagione bisogna aspettare di nuovo vabbè se il bregatto ne ha da recuperare ma no è che Spotify qualitativamente per la musica fa cagare quindi io ho Apple Music e mi sto trovando da Dio sotto tutti i punti di vista anche come integrazione con l'iPhone e l'idea di scaricarmi Spotify per un podcast mi tira il culo perché ho già l'applicazione Apple Podcast tra l'altro non aprite quella podcast e anche video anche noi volendo possiamo caricare il video eh però mi sembra non l'idea del cazzo eh vabbè è carina se l'hai lì boh cioè ma a sto punto se lo guarda su YouTube perché metterlo lì perché lì c'hai tutta la playlist dei podcast e via anche Kashmir e video se però su YouTube ci guadagno sì Kashmir lo sto guardando perché non ho un coltello moro cazzo questo è il mio coltello ah no aspetta ho questo guarda faccio così no come si fa no devi tenere il muto sì ah bene che l'hanno fixata non lo sforzo secondo te ok molti la odiano il podcast di Jax sul crime perché dicono che lui è la voce rauca no che cioè non c'è rispetto cioè non bisognerebbe ridere di certe cose roba del genere ma in realtà loro non è che prendono per il culo i morti cioè prendono per il culo perché le cose che trattano loro sono talmente surreali che dici ma come cazzo è possibile che è successa questa cosa perché cioè spesso sono coglionate sono indagini che boh che cazzo è quella roba di chi si illumina come la madonna sì no prendono per il culo cioè ci ridono sopra robe non vedo niente se usi la E se uso la E è vero no ma credo sia un difetto no no guarda c'è roba qua che cazzo sono impronte per interagire con le trappole per gli alligatori ma che figo ah ma dato 7 euro a me 4 sì nella seconda stagione erano un pochino un po' troppo eh ma le vedi le impronte dell'alligatore sì con la E sì sono sparite no ma tu hai è perché interagito con il coso no hai interagito tu ma va bene te l'ho cullato allora va beh inizio in realtà è meglio che proseguiamo oppa miseria che paura credo che Ant sia il gioco con l'acqua più brutta che ho mai visto in un videogioco comunque no non è vero dai ma va no è terribile gatto beh minchia magari non è la più bella non è Sea of Thieves ma non mi sembra così brutta guarda quasi preferisco quella di Pokémon Scarvato e Violetto gatto ma scusa la grafica al minimo no no c'è tutto a cannone ma è un piatto con i riflessi che sembra che sopra c'è una patina di grasso non lo so e l'ha migliorata eh perché l'ha migliorata io mi ricordo quando è un po' eccessivo però c'era tutta la merda ti richiedere a Marco effettivamente è Marco l'esperto delle acque ma lui concorda con me lui intanto non torna dal Giappone finché non raggiungi l'obiettivo poi vediamo eh oh vabbè Yahoo Yahoo hanno sparato Yahoo questa scimitarra eh ma sono un corsaro vado da piccolo quanto mi piacevano le spade ragazzi non lo ripeto tantissimo le pistole sono da sfigati infatti mentre le pistole mi piacevano ma le spade di più facevo finta di essere figo no io usavo il bastone dello swiffer come spada sembrava una spada laser io me la facevo giù in falegnameria la spada eh ho capito io no quindi prendo il bastone dello swiffer ci toglievo la parte quella che serviva per pulire e che faccio ah ho preso una scetta toglievo la parte che serviva per pulire e diventava una spada laser quella dove cazzo è? guarda che è una fantasia eh questo qui è uno gatto è qui perca puttana dov'è? l'ho colpito non l'ho colpito più è andato giù qua guarda che c'è una vecchia che mira di merda ragazzi non si può cosa fare eccolo qui è da me è da me siedi si è lì dietro percosse nella mia schiena ti hanno ucciso? io l'ho ucciso lui però ecco lo schioppone mi hanno sparato mi hanno bucato cioè mi è sembrato di andarlo giù di vederlo andare giù adesso arrivo ti dando fuoco? non credo l'altro era sopra dove ero io oh cazzo guardi l'acqua cosa? eh non l'ho seccato mi è sembrato di vederlo andare giù ma non era vero niente aspetta è qui si è qui a destra è occio no quella è una vecchia mi è sembrato di sentire a sinistra ancora a destra no 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 mi fa spissa al naso no gatto smettila con queste cazzate per favore ah urca troia ma è proprio qui dentro russia non russia se avevi la spada gatto ma non è andato fuori si che è andato fuori è andato fuori gatto a destra senti l'altro dietro ma dove cazzo è che sparo dappertutto è un'altra squadra gatto mi hanno fatto schioppare qualcosa l'hanno tirato giù a uno ma mi vieni a tirare su fai lo gnordi fai lo gnordi si ma non ti farai sgamare sentite che mi corre qui a sinistra sono i tuoi piedi gatto no no è la fanga mi grazie al naso ok gatto è a sinistra è vero ma dai ma scusami ma sono tutti dei campioni non è quello che ho ucciso a me questa è sempre la mia cosa eh madonna mia oh cioè ti distrai un secondo è finita per sempre ma prima mi sono impanicato ho mancato un colpo veramente perché sono un imbecille ma ti giuro io allora quello lì a cui ho sparato poi dopo mi sono girato verso di te per tornare ma mi sono girato perché pensavo fosse caduto perché si è inclinato invece si è mosso velocissimo ma vara te causa di morte percosse eh volevo dire perchele ma non mi esce mai voglio abituarmi a dire perchele bravo perché facciamo un discorso ultimamente che purtroppo eh solo le parolacce sono eh milioni di milioni no danno gusto da dire proprio ok e quindi non c'è un eh che io vorrei eh sfogare la rabbia senza risultare volgare ma non so come fare a me è bello essere volgare è bello io balestra adesso aspetta che io ho tutte armi del merda eh infatti questa passa come qui fammi prendere questo e mi prendo questo qui va comunque in un'ora e dieci di quella mi ha fatto un cazzo qui almeno stiamo facendo roba e sa qui da me da 40 minuti sì acciderbolina sei una sfigata Ime capisci se dici acciderbolina eh cioè sei ridicola guarda Marco è effettivamente l'imprecazione migliore che ho nel mio repertorio dire Marco sì ah perché c'è RC quando gli vai a dire lui no quando lo usi come perché è un po' porca porco Marco e sarà per quello ma suona simile gratta la gola bene cos'è che è in sconto scusa Davide non mi son perso questo gioco per Switch perché esiste anche per Switch Switch madonna non lo consiglierei comunque non lo consiglierei senza un mouse e una tastiera in realtà no sì appunto girasse anche benissimo non lo consiglierei su Switch sì dovrebbe essere sulla Play però ho visto oggi che c'era in sconto anche Crash 4 su Steam ok se lo possono ottenere cagato finché fai il PPP esistono platform belli e platform meno belli adesso mi dà è Mario esattamente infatti infatti coso come si chiama non mi ha cambiato l'outfit ragazzi non ho le cose non Kojima come si chiama il Kojima quello bravo però mi viene Toriyama che non è ed è Miyamoto mia moto ha detto guardate il prossimo Direct che è mamma mia di qua Lorenzo che è più vicino dove vai scusa mi vengo di qua eh no non è che non le occupaggiate che nella selezione del loadout dicevo dececcate le armi ragazzi finché non mettono il game pass cosa che mi auguro facciano entro domani ma ha detto di tenere d'occhio i prossimi Direct esatto io sabato vado a vedere Mario che magari c'è un trailer di Mario ti immagini pensa c'è il gioco te lo dice a metà c'è uno spottone cos'era l'ultimo Direct che mi ha detto di tenerlo d'occhio poi non c'era un cazzo che avevamo anche discusso sul fatto di no non era era non era non ha detto un cazzo era Sony era forse no no anche nello stesso offplay Sony aveva detto aveva messo le mani avanti ci eravamo fatti noi dei film è vero era il contrario aveva detto non c'è un cazzo aveva detto effettivamente non c'era veramente un cazzo è stata proprio una rottura di palle che metà bastava c'è Miamotto al cinema esatto ad ogni spettacolo del mondo tu ti trovi Miamotto lì che ti racconta ti fa firmare ti fa firmare un NDA che così non vai a raccontarlo e ti ti dice il nuovo gioco di Mario non ho visto le di Xbox ho recuperato le cose ma niente di interessante non mi fa paura la difficoltà perché come sapete sono un god gamer di cosa scusa? no di tutto però Crash 4 si parlava ok ti lasci fare un argomento a caso è che mi ha detto Crash 4 e tanta roba forse hanno esagerato con la difficoltà più che altro ma a me sembra veramente hanno esagerato con le cazzate devo essere sincero a me i Crash mi piacevano tanto ai tempi della Play 1 ma una volta passati a platform veri e propri mi spiace mi spiace grazie Castoro per i 12 mesi una volta che provi il moveset di un Super Mario qualunque c'è Crash e dici ma perché devo perdere tempo nella mia vita Mario si tuffa di panza rimbalza salta tu che cazzo di pistola del cazzo è madonna ma è bellissima ma cosa c'è la pistola a schioppo no è una pistola è una pistola normale ma ad un colpo solo ed è ad avancarica guarda aspetta che devo aprire qui guarda ti faccio vedere contro quel signore lì lo vedi guardalo bella hai visto come è andato via dritto sì allora qua dentro è pieno di merda ah beh non prenderlo dove stiamo andando non lo so prendo l'indizio e e qui mi prendono tutti a cazzotti però non è possibile ma ti assicuro che uno era da me è retrocarica scusa ma carica è quella dei pirati è davanti sì allora andiamo dove spara no andiamo andiamo dove sparano aspetta che arrivo su di qua chi è eh non è possibile quanto si sente yahoo allora in realtà forse me lo discorso è come dire una volta che ho portato un moveset di dark souls cosa provo a fare fifa non è vero che sono giochi diversi Gabriel cioè Mario è un platform e Crash è un platform no anche è un platform è un platform però no dai c'è Crash che genere è scusami sì è un platform ma non c'entra un cazzo l'uno con l'altro con Mario sì perché come tipologia di gioco è lo stesso identico ma non c'entra un cazzo come come no come feeling sì certo ma è lo stesso gioco sono entrambi platform eh però su Mario non li trovo diversi devi saltare nelle puttanate devi fare i cubi le cazzate ma smettila che sei ridicolo gatto eh va bene ecco non c'entra l'uno con l'altro io non so cioè sono entrambi due platform in terza persona sì però uno è più è più arcade anche nel 3D rimane arcade Mario e poi arcade anche cresce però cresce sull'ambientazione particolare dove devi leva l'ambientazione i giocatori sono entrambi i platform in terza ma Mario fa cagare c'è Mario non ho detto che sono uguali ho detto che sono lo stesso genere e quindi essendo lo stesso genere ci sta a compararli dovremmo andare di qua anche FIFA e PES sono due giochi diversi però li puoi comparare tranquillamente poi non è vero è che Mario fa cagare però pensa proprio per la questione che hai detto tu prima nell'innovazione di Mario non mi ha e va bene non mi ha mai preso però il discorso venirmi a dire che sono due robe diverse e non possono essere comparate mi sa un po' di stronzata perché no no non è vero che non possono essere comparate infatti il crash per me è più bello è quello proprio perché possono essere comparati però per me sono giochi comparabilissimi come lo sono se sei nato come concorrente di Mario inizialmente non è che posso comparare non è che sto comparando Mario l'ha fatto piangere fallito Mario dopo Crash è fatto però ecco ma non li vedo neanche così diversi capire semplicemente Crash ha un personaggio estremamente legnoso che va bene che è pesante porca puttana che per fare un salto poi dopo sembra che ci abbia i piedi ma impara a giocare i videogiochi stai zitto e può difendersi roteando diciamo che c'è quella feature lì quindi magari è un po' più action crash è bianco ma dove cazzo è però è qua sotto posso entrare che cazzo è sto coso è perché è sotto lui dove cazzo è il biuco ehi za dieci in realtà sono molti di più grazie mille sarà dentro la casa no c'era fuori mi ricordo eccolo qua sei un esperto di buchi bravo ne capisco un botto sì devo far incazzare il ghost rider ho capito che passa vita scivolata a doppio salto senza interpare l'animazione ma il salto di crash è molto più pesante rispetto a mario oh che cazzo è il ghost rider pensa che è il gioco migliore di mario oh mio dio che male e che paura e c'è il mostro moro eh moro i cazzi sto sanguinando vai via vai via è morto che situazione della merda è Mario e 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 Mario sono d'accordo fino a un certo punto perché è veramente bello ma è un cazzo di capolavoro ah quella è una scelta ma 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 Dorian ma cosa c'entra che è una scelta per me è un difetto non è che si hanno fatto una scelta cazzo guarda c'è in Shadow of the Colossus hanno usato il papirus come font mi fa cagare eh ma è una scelta sì mi potrà far cagare e che discorso mi hanno toccato le palle io non so stato ma che stai sanguinando tantissimo eh ma hanno toccato le palle con delle lunghe lunghe le palle strane i coglioni con le asce mortarsi su guarda che marma mia di male anche mettere la panna di carbonare è una scelta sì va bene però può essere una scelta autoriale come no io posso avere tutti i diritti di giudicare no dei coglioni ho visto durante la mia vita da videogiocatore aspetta che mi chiudo eh perché se no è tutta una scelta allora non è niente criticabile ah mamma mia come morrogo ecco qua l'attassino è un dito nel culo perché è un confusionario come una merda e fa veramente male eh sì e poi non si può colpire la aspetto sono stanco mi prendo le monete tu ti riferisci al feeling dei comandi e dell'animazione su quello ci sta che tu abbia la tua opinione al riguardo ma è un altro discorso ma è il mio discorso cioè di che parlate voi scusatemi ma l'ha detto questo infamone ma sei tu che paura sì sì senti che corrono c'è una curetta non sento c'è qua ok ha fatto esplodere qualcosa gatto non sei stato tu no dentro proprio a me sembra avessi in mano tu una granata ti giuro no 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 ah eccolo ti hanno sparato Lorenzo mi hanno sparato vero ecco sappiamo io effettivamente c'è un fuggile di imberda perché non mi ha dato il loadout mortacci sua moro comunque non escono le sub figurati se stream elements funziona una volta anche a me non esce un cazzo perché stavo registrando moro io arrivo eh era a destra eh eh sta combattendo col coglione dove c'era l'ascensore era e non mi assassinare assassino mi ha sparito curati non farti sentire mai eh sta attaccando gli altri sì sì ovviamente sì guardate che mi curo eh vado dietro mi curo anch'io crash è un platform 3D un po' legnoso nei movimenti mentre Mario è sempre un platform a scorrimento e un finto 3D con dei movimenti più freddi rispetto al crash cosa vuol dire un platform a scorrimento in un finto 3D nel senso che è 3D sì però comunque vai avanti a scorrimento ma perché anche crash è uguale ma dipende dal gioco di Mario che prendi ad esempio però eh sì non stare proprio lì che sono anche gli altri lì eh lo so ma dove cazzo non mi posso spostare dà qui ecco appunto te l'avevo detto eh lo so non mi potevo levare dalle palle oh no che pro player questo è arrivato saltando gli ho sparato è morto? morto? no non è morto ma come è impossibile come hai fatto di piombo questo scemo? ma che pistola è questa? vabbè ma scusami questa pistola ha un proiettile alla volta perdonami ve l'ho colpito sette volte ma com'è possibile? ma dai ma vaffanculo ma era un cheater chiaramente chiaramente era un cheater sì anche a me mi ha ucciso che non mi vedeva naturalmente gli ho usato la pistola più forte del bont scusa voglio vedere quando quando l'ho ucciso ah non mi fa vedere la killcam eh non mi fa vedere la killcam qua non mi fa vedere la killcam vabbè vabbè non lo so eh non lo so eh comunque comunque le ho sparato veramente un botto di volte l'ho preso come ho fatto a non morire non ne ho idea eh aveva la durezza non doveva ricaricare eh quello la balestra che potevo fare chissà cosa offro un tributo eh aspetta cosa fai? boh offro un tributo ok compri una merendina una vocale non so aspetta un attimo cosa mi ha dato per il tuo tributo eh un'accetta da battaglia ma vaffanculo come ne ho offerto il tributo lo voglio rifiutare in alto a destra c'è un simbolo con un proiettile ecco qua tributo oscuro ecco qua ecco qua o lo offro anch'io però devo dare le exp non so eh come no si ah no ho raggiunto ok ok aspetta butto ma cos'è un bossolo boh ok e dentro mi dai per il tuo tributo ma ha dato dei soldi 163 dollari ma chi se ne incula ma preferivo quello che ha dato a te scusa ma non mi ci compro un cazzo ma c'erano anche gli obiettivi vabbè dai però io lo riporterei questo eh ma ci siamo divertiti dai è stato divertente anche la prima ora pensa non tanto la prima ora però è stato bello chiacchierare c'è il gioco guarda lo sto disinstallando perché è stato veramente un problema guarda non chiedo il rimborso perché quei 4 euro è più la fatica per chiedere il rimborso che altro però guarda sì perché potrebbero fare sì che non mi possa comprare cioè che non possa chiedere altri rimborsi più importanti quindi va benissimo esatto quindi me lo accollo e via boh vabbè mi ha fatto piacere comunque passare la serata così a chiacchierare e soprattutto con uno che non capisce un cazzo di platforming smettila che adesso vado a spendere questi 20 euro e banco tra l'altro gira anche su Steam Deck quindi vai con i tasti pesantissimi con i tasti pesantissimi non è vero sei zitto che non capisci niente buonanotte a Lorenzo ciao gattone ciao e saluto anche voi bellezza c'è un aggiornamento pure di discord vabbè un sacco di roba che cazzo è quel programma lì ah quello che ho installato per sì l'ho già visto Dorian non è l'italiano se è lo stesso ci vediamo domani mattina andiamo avanti con coso con con king of the cats e domani sera è una bella domanda domani che giorno è venerdì domani domani è venerdì e poi noi non ci vediamo più fino a martedì però quasi quasi la live serale di lunedì la farei perché saltare tutte queste live mi sembra proprio stupido dal mio punto di vista quindi facciamo la live domani sera adesso ci inventiamo qualche cosa e poi ci rivediamo lunedì sera eccolo te che invece ci vieni no? ci vieni comunque non perderti il secondo journey gamer perché tu sarai un protagonista se vuoi anche lunedì mattina puoi farla potrei farla anche lunedì mattina la live allora quasi 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 anche lunedì mattina Pasqueta eh lo so lo so lo so lo so eh si riposi Bad Wolf di Lord Gauter non posso ci valuto allora lunedì sera confermata lunedì mattina vediamo va bene ci vediamo domani mattina intanto domani mattina ci vediamo ok grazie a Chiara per i 64 mesi d'accordo ciao ciao